Siamo orgogliosi di essere stati i primi in Italia ad aver acquistato la Volvo L25 elettrica zero emissioni per la movimentazione e lo stoccaggio dei nostri prodotti. Sono Antonio Pinna, titolare della PAD SRL. Mi occupo della movimentazione delle materie all'interno dello stabilimento Florsidi di Cagliari. Noi come PAD ci siamo dotati della Volvo L25 elettrica per seguire una strada iniziata con Florsidi sulla sostenibilità elettrica. A oggi mi ritengo molto soddisfatto dell'investimento effettuato grazie anche alla riduzione dei costi di gestione e operativi. Sono Daniele Tocco e sono il direttore di stabilimento dell'unità operativa Florsidi di Cagliari. I nostri tre principi di integrità, ambizione e perseveranza ci spingono a ragionare e a puntare sempre di più al miglioramento continuo della sostenibilità ambientale. In un contesto così complicato come quello odierno, noi crediamo che l'unico mezzo per garantire la vera competitività aziendale sia quello della spasmodica ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate, efficaci ed efficienti che puntino sempre alla sostenibilità e alla riduzione dei costi operativi. La pala gommata elettrica viene ricaricata per mezzo della produzione dell'energia elettrica svolta nei nostri impianti produttivi che non emettono anidride carbonica in atmosfera e questo consente al nostro stakeholder un ritorno dell'investimento per mezzo della riduzione dei costi operativi. La batteria dell'L25 ha rispecchiato le mie aspettative. Grazie anche alla ricarica veloce, durante l'ora di pranzo, riusciamo a rispettare il nostro ciclo produttivo. Questo piccolo esempio della pala gommata elettrica Volvo che abbiamo voluto implementare attraverso uno dei nostri stakeholders rappresenta la nostra filosofia. Sono Gianluigi Argiolas della D-Tapad, utilizzo questa Volvo elettrica L25 dal 2022. Ha le prestazioni simili o superiori rispetto a un equivalente macchinario a motore termico. Con questa pala L25 della Volvo possiamo utilizzare tre accessori. Abbiamo la benna montata e possiamo movimentare dei materiali a rinfusa e caricarli e spostarli. Mentre si può montare anche un altro attrezzo come la spazzatrice per pulire i capannoni e le strade e anche le forche per movimentare dei big back oppure delle pedane. Con questa pala elettrica l'operatore può godere di maggiori comfort durante le ore di lavoro perché avendo un motore termico le sollecitazioni, le vibrazioni e i rumori sono quasi assenti. Grazie. 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 Grazie.